Buon pomeriggio a lei, grazie. Grazie davvero. Ciao Serena, siamo qui con la signora Liliana. No, volevo dire che il percorso storico lo raccontiamo in questo servizio di Enrico Buonanno, in modo così che conosciamo anche questa strage di guerra dalla quale è scampata, devo dire miracolosamente Liliana è attanto da dirci anche in termini di racconto umano per quello che è avvenuto subito dopo. Era la seda del 23 giugno del 1944, quando un gruppo di partigiani incaricati di far saltare un ponte in località alla Bettola di Vezzano sul Crostolo, Reggio Emilia, ebbero uno scontro a fuoco con le truppe tedesche, che vide la morte di due soldati e tre uomini dello stesso comando partigiano. Le truppe naziste decisero per la rappresaglia. All'una di notte del 24 giugno, i militari fecero irruzione in una locanda dove si presumeva che si fossero nascosti i sabotatori. Nello stesso tempo venivano razziate le abitazioni vicine. Gli avventori della locanda vennero trucidati senza pietà, quindi dati alle fiamme. Tra loro anche un bambino di 18 mesi. Le donne sopravvissute vennero stuprate. Le vittime finali furono 32, innocenti, caduti nella barbaria della vendetta nazista. Daniela, Liliana. Allora, prima di lasciar parlare la signora Liliana, vi dico che lei come tante testimoni ha iniziato a parlare molto tardi, soltanto nel 2008, per quella sorta di pudore, di paura e non di rimozione, ma appunto di pudore. Ma lei adesso è testimone nelle scuole, abbiamo detto con l'iniziativa del treno della memoria e ha raccontato la sua esperienza più volte. Liliana, tu avevi 11 anni, no? Era il 23 giugno del 1943, quando come rappresaglia entrano in casa tua. 44. 44, sì, il 23 giugno, 44. Entra la gendarmeria nazista e con un colpo di mitra uccidono tua madre e poi uccidono anche i tuoi nonni. Tu ti rifugi in mezzo a loro due, che cosa ricordi di quel giorno? E come sei scampata alla morte? Beh, quel giorno me lo ricordo tantissimo, è stato più che giorno, era la notte, è stata una strage fatta di notte. Io ero in cucina con la mamma perché avevamo sentito i rumori, eravamo vestiti. Sono loro sei o sette, adesso non mi ricordo il numero, hanno sfondato la porta della cucina, sono entrati e hanno spinto, urlato e spinto la mia mamma dentro la camera dei nonni. i miei nonni erano seduti sul letto, la mia mamma si è messa al muro, vicino al muro, vicino ai nonni. Io invece sono salita sul letto dei nonni e mi sono infilata in mezzo, mi sono coricata sotto alle lenzuola. i tedeschi si sono messi ai piedi del letto, hanno cominciato a sparare, hanno ucciso i miei nonni e la mia mamma. Io sono rimasta solo ferita, però sono sempre rimasta vigile e poi i tedeschi hanno buttato benzina nella camera e sul letto, hanno incendiato e sono usciti, loro sono andati via. Io sono rimasta vigile, stavo bruciando tutto, sono uscita dalle lenzuola, ho visti i miei nonni e la mia mamma, pieni di sangue e l'unica via dove ancora il fuoco non aveva attecchito, era la finestra che dava sul retro della casa. Io mi sono gettata dalla finestra, sei riuscita a saltare dalla finestra e ti sei anche rotta una caviglia e dopo come sei, dove sei fuggita? Posso immaginare una bimba di 11 anni? Sì, ho strissiato un pochino perché non riuscivo a camminare in mezzo all'erba alta, sono rimasta lì fino tutta la notte. Al mattino, a giugno, viene presto la luce, mi sono visto uno scarpone che mi stava calpestando ed era un soldato, un tedesco, aveva il mitra in mano, ci siamo guardati, però dopo lui ha appoggiato il mitra per terra e poi mi ha sollevata molto delicatamente e mi ha portato sul ciglio della strada. Io ho pensato che quel tedesco ha voluto salvarmi. Perché effettivamente... Perché se io rimanevo nascosta... Dica, dica. No, no, dico, perché se tu rimanevi nascosta, se tu fossi rimasta nascosta... Forse nessuno mi trovava perché ero nascosta a mezzo all'erba molto alta perché quando i tedeschi sono andati via alcuni vicini di casa sono venuti a vedere quello che era successo durante la notte e magari se ero nascosta a quel torrente nessuno mi trovava, avevo perso anche molto sangue. Invece portandomi sul ciglio della strada, lui avrà pensato che qualcuno, quando loro andavano via, veniva a vedere quello che era successo durante la notte. E questo, Liliana, è la prova che ci può essere sempre un berlume di umanità anche, diciamo, tra l'esercito più atroce. Cioè, si può sempre scegliere, si può sempre aiutare l'altro. Poi tu ti sei sposata, hai avuto due figlie, sei nonna di tre nipoti, tra cui Tommaso che ti aiuta nella tua attività di testimone della Shoah e tu dici sempre che ero viva, la cosa importante è che io ero viva. Nella tua vita ha più prevalso il dolore per aver perso tutta la tua famiglia in un modo così insensato e così atroce o più la speranza di costruire un mondo migliore? Ma io subito è stata una cosa molto molto dura per me, è una cosa da superare perché ero rimasta sola e praticamente la mia casa era bruciata, tutto, non avevo assolutamente niente. Però io ho pensato che nella disgrazia ero rimasta viva e dovevo trovare la forza di superare questa cosa, di continuare e fare una vita normale come tutte le altre persone. Ci sei riuscita? Ci sono riuscita, sì, ci sono riuscita perché mi sono formata una bella famiglia, sono arrivata all'età di 90 anni e qualcuno lassù mi ha protetto perché ho fatto una vita anche molto sana, non ho mai avuto problemi, sono guarita benissimo delle mie ferite. E ti ringrazio anche perché hai scelto in qualche modo di riaprirle per andare a testimoniare nelle scuole e così come ringraziamo i trani della memoria che portano tutti i ragazzi nei luoghi della Shoah perché la memoria deve essere sempre mantenuta viva. Grazie Liliana. Grazie.